Importante centro commerciale della Campania Felix, Pompei aveva un ruolo strategico nella ridistribuzione delle merci tra Roma, i paesi dell'entroterra e i porti del Mediterraneo. L'attività della cittadina si svolgeva intorno al foro. Qui, ancora oggi, si ammirano i resti della Basilica, edifici religiosi e il Macellum, sede del mercato. Dalla grande piazza si snodano le vie che consentono di inoltrarsi nell'antica città, scoprendo dimore maestose come la grande casa del fauno e la casa dei vettili, con affreschi splendidi. Le botteghe di via dell'abbondanza, che offrono un vivace spaccato della vita quotidiana di duemila anni fa. Gli spettacolari ambienti delle terme stabiane, i più antichi bagni pubblici di Pompei, fino all'imponente mole dell'anfiteatro, che ancora oggi fa da cornice come il teatro grande a rappresentazioni teatrali e a concerti. Appena fuori città, Villa dei Misteri è il monumento più enigmatico di Pompei, con il grandioso affresco che rimanda al culto e ai misteri del dio Dioniso. In estate, gli scavi sono visitabili anche di sera.